Wine TV Experience, che significa viaggiate insieme a noi. Abbiamo pensato un qualcosa di differente, perché è bello andare a visitare i luoghi ricchi di storia, conoscere i produttori, calpestare i terreni, quindi emozionarsi, scoprendo cosa c'è dietro alle vostre etichette preferite, ai vostri territori preferiti. Ma abbiamo pensato di unire un qualcosa in più, quindi sarete accompagnati dal team di esperti di Wine TV e all'interno di questo viaggio, emozionante, ci sarà anche un percorso di formazione. Quindi vi offriamo la possibilità, all'interno di questo pacchetto, di formarvi attraverso un seminario. Che significa questo? Beh, significa emozionarsi, imparare e tornare accresciuti e arricchiti rispetto all'esperienza vissuta. C'è la possibilità che alla fine di questo viaggio, al ritorno di queste esperienze, voi stessi siete in grado di raccontare bene quanto, come noi, ma direi più di noi, l'esperienza vissuta. Quindi seguiteci dove, beh, su tanti aspetti abbiamo pensato e costruito, abbiamo articolato questo esperienziale. Quindi i grandi territori, pensate al Piemonte, la Toscana, la Sicilia, il Veto, ma abbiamo anche immaginato un qualcosa al di fuori dei nostri confini. Quindi venite con noi a divertirvi, arricchendovi, viaggiando in quel meraviglioso mondo che si chiama vino.